Il nostro sindicato, il Departamento, il Governo e anche il settore privato. Il nostro sindicato, il sindicato, il Departamento, il Governo e anche il settore privato. Il nostro si è un'esplice, il nostro si è un'esplice, per poter implementare una strategia a un livello nazionale, per poter sostenere la discrepancia e la disbalanza intergenerazione in questo paese. Quindi, siamo molto contenti per avere un gruppo grande, per debattere e comparte il pensamento di questo. E in questi momenti, sali fuori di Kenan e poni esak in action. E eccezzi da noi, il nostro debito. Il nostro isticato, il nostro si è un'esplice, il nostro si è un'esplice di internazionale in gente. Il nostro si è un'esplice, il nostro si è un'esplice di involvimento di gente. e questo è il primo passo di essere qui.